ciao voglio dedicare questo video a mia carissima amica giusi e la mia fantastica tesoro amico tesoro amica anzi scusate silvara e volevo far vedere una cosa di quando io avevo la bellezza di sei anni e che amavo cioè amo tuttora andare via in bicicletta e con bici da corsa e quindi tacchete pronti guardate qua siamo a perugia siamo nel 1984 e appunto sono stato anche messo su un giornale bc sport per l'epoca era molto letto anche a livello cicloturistico e niente quindi insomma guardate guardate quanto carino ero che avevo sei anni sei anni e mezzo non c'era la seconda elementare quindi sapete insomma a circa settembre ottobre così ecco con la maglietta della società ciclistica ristorante la siesta di albignaso ecco spero che vi piaccia va bene alla prossima ciao amici